Bonzi, benvenuti a tutti sull'isola che è cambiata, come potete vedere da qui davanti Come avete idea ho fatto queste cose, vi faccio un recap molto generale dell'ultimo episodio Ultimo episodio, porca miseria, abbiamo fatto tutte le cose qua, wu 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 Abbiamo sbloccato tutto, abbiamo sbloccato il punto di prestigio Punto di prestigio, ricordatevi questo, P, punto di prestigio, ci dà l'hopper bonsai Che praticamente scarica automaticamente le cose nella cassa, come un bonsai pot con un hopper sotto ma già pronto Poi il secondo punto ci potrebbe dare la orexcavation, non so più per là Però prima che ci arriviamo ce ne vuole un po' Come vedete qua ci sta pure la vera tinkerer, quella forte, potente, noi abbiamo la versione un po' piccina E qua ci abbiamo tutta quest'altra roba, questa è roba che serve sempre per i bonsai pot Che possiamo mettere nei pot e la dobbiamo sbloccare sempre con questi punti di prestigio Ci stanno diversi modi per ottenerli, ma il più plausibile per noi è completare tutte le pagine di questi obiettivi Tutte quante, come potete vedere è un po' difficile Però stanno queste, colleziona tutti i semi d'animale Colleziona tutto questo, fai tutti gli alberi Qualcosa diciamo che si può fare Ora Io volevo fare delle torte Perché? Direte voi, ma il nostro metalmavione è impazzito Volevo fare delle torte, come queste qua, come vedete, torte normali, banalissime Ci servono delle uove E per le uove ho fatto nascere delle gallene Che stranamente mo' le hanno fatte Io vi giuro, ho aspettato tipo una quindicina di minuti Ah, qua sta ancora un'altra piantina Una quindicina di minuti buoni che queste galline facessero le uove Non hanno mai fatta una Però a quanto pare, boh, se ho sentito toccate dal video Non lo so, o qualcosa, hanno fatto le uove Comunque, ci serve del bone meal Perché ci servono dei semi Perché? Non vi faccio vedere Visto le due uove non ci bastano Ma ce ne vogliono quattro per quello che vogliamo fare Perché di torte ne voglio fare due, non una, due Facciamo della semaglia Vedete? Col bone meal Prendiamo un po' di semi Perché da mister farlocco qua Ve lo ricordate, il market e tutto Con un seme Ci possiamo comprare delle uove Quindi con due semi Ci possiamo prendere due uove E arrivare a quattro Poi vediamo che altro viene La pellaccia del coniglio L'aloe vera Gnam gnam Comunque, qua ho messo a fare delle cose simpatiche Come potete vedere Diamante liquido Perché? Perché il diamante non si può fare Solo con le Ghiande che ci dà la pianta A parte che è piantato laggiù Non solo con le ghiande Ma pure sciogliendo sta roba O le ghiande stesse Però siccome di sta roba Ci se ne accumula proprio tanta Ne facciamo proprio tante Non so che farci Per ora La inizio a metta scioglie Qui, qui dentro Così ci dà proprio poco Ci dà tipo Un nugget a testa Cioè ogni cosa di questi è un nugget In totale adesso Con tutta sta roba Ci abbiamo tre gemme E la metto qua dentro Così Si fa il blocco Ed è Fin qua tutto facile Ora Prepariamoci al volo Un Cabinet Per metterci Tutta la roba Che lasceremo qui Perché Lasceremo qui un po' di roba Beh queste le mettiamo qua Questo qui Poi pure qui Eh non c'è spazio Vabbè Le verdure Quella mucca come c'è arrivata là Quella mucca come c'è arrivata là su Questi li mettiamo qua Mucca di prego scendi Fatemi facendo quella mucca Che sennò fa un free fall Di 400 Mila metri Vieni Ok Stati qua Non usci mai più Dall'alto Cioè non so come abbia fatto Quelle soffense Ma va bene Comunque Ci serve un secchio Secchio bonus Ci serve del ferrame Quanto ne abbiamo Ne abbiamo Zero Abbiamo zero ferro Però la cosa positiva È che qua è quasi pieno Quindi possiamo Svuotarlo Togliamo questo E ci possiamo Mettere a fare Del ferrame Con questi qua Che ci dovrebbero dare Delle ember Cinque E in più qua Vi faccio vedere come L'ho piantata delle cose Terra Pietra Clay Ossa Gravel Cotton Che sarebbe quello Per la lana Ferro Oro Tin Redstone Silver Lead Lapis Diamonde E come vedete Eh già ci abbiamo Un sacco di gemme Qua eh Un sacco di gemme Qua ci abbiamo pure Un sacco di ferro Bello pronto Prendiamo pure questo Così facciamo tutta la Ember Che ci potrebbe Mai servire Ancora Ma come fa Come fa Quella mucca Salta così in alto È una cosa incredibile Due 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 Ok Queste dovrebbero Abbastarci Ci abbiamo Se aveva voglia Se ci abbastano Comunque Prima cosa Vediamo qua Eh questo qua Non c'ha spazio Quindi lo mettiamo A svuotare qua dentro Ovviamente Prima d'arriva A cinquemila Di Diamante Vedete come sale Piano 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 Lento 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 Eh Ci vorrà Probabilmente Un sacco di tempo Stiamo mo Alla metà Un po' passata Quindi diciamo Che per fa Sta roba Ci vorrà un po' di tempo Quindi ci mettiamo A fa un po' di Ember Che ci serve Del gustoso ferro Vedete l'hopper Questo prende un Cubo la volta Però ne prende Quanti Ne pare Tipo se c'hai uno Stack da 64 Di una cosa Lui la prende Se ce n'hai di più No Facciamoci Altri Diamantelli 14 Perché Facci Un'armatura Buona 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 Anzi Probabilmente Un'armatura In generale Intera Non ce la facciamo E poi Se vedete Questi Achievement Qui Dove Age of Enchantment Ci sta proprio Il tavolo Per fa L'armatura Con la Con la Tinkerer L'armatura Della Tinkerer E tanta roba Visto Visto Che Oggi Faremo Una Toccata E fuga Nel Nether Ma proprio Toccata E fuga Oh no Spoilerato Quello Volevo Fa Con le Torte Porca Misera Vede Cake Age Of Exploration Dobbiamo Fare la Torta Del Nether Dov'è No Questa Lost City Che Non So Che Roba Sia Dobbiamo Fare Una Torta Per Il Nether Una Torta Per L'Overworld Per Tornare A casa Quindi Il Ferro Se vi Interessa Che lo Sto Fai Per I secchi Qua mi Sta Già Rifini La Lava Mamma Mia Facciamo Tre Lingots E Uno E Dos Mi Servono Solo Per Vuole La Lat Ok Grazie Milles Qua Si Continuerà A Fa Un Po Di Robetta Ma A Noi Non Ce Ne Freghetta Perché Noi Ci Facciamo La Tortanza Oh Mucca Vediti Non Ti Putta Giù Che Mi Servi Qua Abbiamo Delle Sugar Cane Per Lo Zucchero Uno Due Scendi Ti Prego Ok Non voglio Sapere Come Faccia A Salircila Perché Dovrebbe Essere Illegale Grano Ci serve Il grano Ce l'ha In mano Sono Vesso Ok Allora Facciamo Uno No Qua ci va Lo sugar Facciamoci Due sugar Uno Due L'uovo In mezzo O andava Al contrario Non lo so Lo scopriremo Questo E tre Secchiotti Sopra Voilà Cake Bene Ora ci riprendiamo I secchi E li Ricarichiamo Salve Grazie E arrivederci Facciamo Di nuovo Gli Sugars Due Ok Mettiamoli Qua Quindi mi Sono preso Mille uova Così a caso Che non mi servivano A niente Va bene Va bene Così Mettiamo Il grano Turco E facciamo La seconda Cache Ora 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 Il processo Si Ah Prendiamoci pure Un po' di acqua Un secchio d'acqua Ce lo prendiamo Perché vi voglio far vedere Una cosa Ora Io direi che qua Facciamo un altro Paio di lingotti Perché Non so voi Ma una spadarella Io me la farei Una spadarella Me la farei Voilà Per ora Per ora Ce la facciamo Normale Lasciando Stag Possiamo fare Quella di Tinker Della Tinker Possiamo fare Lo spadone La spadina Do sta Qua No Qual era Questo qua Ci fa Vedete come si fanno Le varie spade Tipo questa Normale Si fa Pezzetto Pezzino Pezzatello Si può fare pure La padella Pensate voi Le cose Della Tinker Sono molto Molto Buone Quando Le iniziamo A fa serie Cioè Diciamo che Usa il ferro E basta Per fare una spada È un po' sprecato Ecco Come stanno le cose Diciamo che una cosa Fatta seria Della Tinker È molto 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 Potente Quindi depositiamo Un po' di sta roba Qui dentro Al volo proprio La spada La rilendiamo E la torta pure Depositiamo tutto questo 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 Non ci servirà Questo No E possiamo Depositare anche Il libro Tipo così Ok Per sicurezza Non so se Ce ne darà altro O no Però per sicurezza Lo lascio qua Nutriamoci un po' Voilà Et voilà Ora come funziona Ci serve l'ossidiana Sette Ce ne serve un'altra Mi serve della lava Per della lava Facciamo questa qua Due Tre Quattro Cinque Seis Sette Me ne bastava di meno Va bene Me ne bastavano quattro Mettiamo quattro qua Facciamo un'ossidiana Riprendiamoci l'acqua E la torta del nether Si fa così Pippo 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 Pappopi Nether cake Poi Dobbiamo fare la torta dell'overworld Che ci servono dei sapling Credo vadano bene Generali Quindi useremo Otto di questi Di pietra Sperando che Sperando che quelli di pietra Non sono gli unici Che non prende Però va bene Non so Posizionare cose Overworld cake Ok Ora Dobbiamo mettere A terra La torta del nether Mi seguite? Tipo la mettiamo qua Se ce ne mangiamo un pezzo Andiamo a finire nel nether Poi nel nether Ci Mangiamo La torta Questa Proviamo Spero funzioni Non me lo fa mangiare Perché so full Non me lo fa mangiare Perché so full Mo devo correre come uno scemo Mannaggia Ok Em A quanto pare Ne bastava uno solo E come vedete Il nether è molto Diverso Ci stanno dei blocchi strani Ci stanno molti più mob Ma molti 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 Come vedete Stanno blades A non finire E forse avrei dovuto Portare un po' più Di blocchi Però C'è una cosa Buona In tutto ciò Perché le torte Ci fanno spawnare In questi solotti In mezzo al nulla No? Mamma mia Che finaccia Che facciamo qua Comunque Qua facciamo proprio Una brutta fine Ok Per favore Posso avere dello spazio Tipo fino qui Uno Due Aperte virgolette salvi Siamo salvi Chiuse virgolette Però Come vedete Il nether è molto 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 Più Cattivo E' pieno 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 Di mob Cioè pure I blades Non so se li avete visti Ma per forza Quelli di solito Spawnano solo Nelle fortezze Dagli spawner Di blades Qua invece Non gliene frega niente Loro escono Dove gli pare Qua dove siamo Scusate Fammi prendere La spada in mano Per favore Ci stanno pure Dei Robo Mamma mia Qua senza armatura Ci facciamo proprio No 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 Mi scusi Mi scusi No non c'ho l'armatura Eh però Così ti fai frega semplice Sei un po' scemo Vieni qua Vieni qua Eccolo Vieni qua Tiè Uh Mi ha dato roba strana Me la prendo E me ne vado Ma dato del Polvere di zolf Wither dust Questa sicuramente È roba che ci servirà Per fare delle magagne Dopo Ne arriva un altro Vorrei prendere qualcosa Però È proprio che Ci dobbiamo preparare Molto di più Per Arrivare qua Però guardate La rigenerazione È così gialla Quanto è forte Vedete Non ci ha praticamente Tolto niente Quella è una capoccia Di Wither che ha droppato No È un altro Wither Almeno i cari vecchi Pigmen Non ci vogliono Menà pure a noi E Boh Io direi che Ci Facciamo un attimo Un buchetto E ci mettiamo La nostra torta Spero che non sia un problema Se la metto in un posto Diverso Da dove sta E ce ne torniamo a casa Mi dovrebbe riportare Lo spawn Se tutto Va bene Ok Si Spawn Perfetto Preciso Come avete visto Il Nether è un posto Molto 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 Brutto Che richiede Molta 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 Preparazione Probabilmente Finché non ci avrò Un'armatura In diamante Non ci torneremo In modo serio Quindi direi che Mo Mi è crashato Minecraft Benissimo Vabbè Mi faccio le cose Del diamante E ci vediamo Nel prossimo episodio Con un crash Finale Tutto Adios Adios Adios